Domani aprì i battenti nei padiglioni fieristici di Cade Somenzi in Mondo Musica, la rassegna unica al mondo dove si sposano business e musica. Quest'anno la manifestazione ha le caratteristiche di un vero e proprio festival internazionale, con la presenza di grandi artisti. In contemporanea con la rassegna fieristica, la liuteria celebrerà numerosi altri momenti di incontro, che rappresenteranno uno straordinario rendezvous dell'arte liutaria mondiale in diverse parti della città, come si addice a Cremona, a cui è stato riconosciuto il sigillo dell'UNESCO, per la tradizione e la storia della costruzione dei violini. Al circolo filo sono esposti 45 strumenti e archetti realizzati dai sociali, a testimonianza della sempre viva tradizione liutaria italiana. Qui inoltre l'archivio di Stato di Cremona presenta alcuni documenti inediti sulla realtà liutaria cremonese nel periodo post-classico, dominato dalla famiglia Stradivari. Questa sera si terrà inoltre uno straordinario concerto del professore Zakar Bron, in concerto al Teatro Filodrammatici nell'ambito della mostra contemporanea di liuteria dell'associazione liutaria italiana. Altre manifestazioni sono in corso in corso Garibaldi, con alcuni liutai nell'ambito della manifestazione Stradivariando. A Palazzo Trecchi l'editore tedesco Darlein Publication annuncia che domani, fino al 29 settembre 2013, si terrà nel cinquecentesco palazzo l'esposizione di strumenti ed archetti di 28 liutai e 28 archettai provenienti da 16 nazioni. Durante i tre giorni gli studenti della Scuola Internazionale di Liuteria costruiranno due violoncelli. Cremona 1 dedica allo straordinario fervore musicale che sta crescendo in città la puntata di questa sera della piazza dal titolo Una città in musica, condotta da Roberto Boccafogli. Numerosi gli ospiti presenti e tre straordinari collegamenti in diretta, con il filo per il concerto di Zakar Bron e per un'intervista con il grande maestro, con la chiesa di Sant'Agostino dove si tiene l'omaggio a Verdi della corale Ponchielli-Vertova e direttamente con Casazzani a Casal Maggiore, dove mostreremo per la prima volta gli ambienti che diventeranno la casa della cultura casalese. Servizi sulle istituzioni musicali cremonesi, sul fulcione di crema e sulle straordinarie chitarre realizzate dall'avvocato liutaio Cesare Gualazzini.